Non sono state solo le Brigate Rosse a uccidere Aldo Moro, ma erano implicati anche gli Stati Uniti, i Servizi Segreti Italiani e il Mossad. Ma veramente? Ciao, sono Simone Fontana. Io sono Anna Toniolo. E questo è veramente il podcast di Facta News. Buongiorno, il Presidente della Democrazia Cristiana Aldo Moro è stato rapito questa mattina alle 9.10 da un commando di terroristi mentre usciva dalla sua abitazione al quartiere Trionfale per recarsi a Montecitorio dove alle 10 era fissato l'inizio del dibattito, il primo dibattito parlamentare sul nuovo governo Andreotti. Alle ore 9.02 del 16 marzo 1978, in Via Fani, a Roma, un commando delle Brigate Rosse bloccava l'auto sulla quale viaggiavano il Presidente della Democrazia Cristiana, Aldo Moro, e due militari della sua scorta, insieme a un'altra auto con a bordo tre agenti della polizia addetti alla tutela del parlamentare. In meno di due minuti furono esplosi oltre 90 colpi di armi da fuoco. Circa 40 di questi andarono a segno, uccidendo i cinque uomini della scorta. Per Aldo Moro iniziava invece l'incubo del rapimento, un'agonia lunga 55 giorni che sarebbe culminata il 9 maggio con la morte del leader democraziano, cristiano, e con il ritrovamento del suo cadavere nel bagagliaio di una Renault 4 rossa. Quella che vogliamo raccontarvi oggi è la storia di quei 55 giorni, di ciò che è accaduto, o meglio, di ciò che le indagini e i processi hanno ricostruito sull'accaduto, ma soprattutto di ciò che non è mai successo. Perché il rapimento Moro è senza alcun dubbio uno degli avvenimenti più importanti e più complessi nella storia della Repubblica Italiana. E come tutti gli avvenimenti importanti e complessi, è stato molto spesso oggetto di fantasie del complotto e di ricostruzioni alternative della storia, che hanno provato a spiegare il rapimento chiamando in causa poteri occulti e mani invisibili. Ma vi chiederete perché ne stiamo parlando proprio oggi. Bene, perché l'ultima di queste teorie è stata presentata nel corso di una trasmissione del servizio pubblico, Report, che nella puntata andata in onda il 7 gennaio 2024 ha dato voce a una serie di aspetti che, secondo quanto riportato dal servizio, sarebbero fino ad oggi rimasti nascosti o, che ancora è cito, dormono nei cassetti. Il programma ha dato particolare rilievo ai lavori della seconda commissione parlamentare d'inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro, istituita nel 2014 e presieduta da Giuseppe Fioroni, e ha dato voce a Claudio Signorile, storico esponente del Partito Socialista italiano, secondo cui lo Stato italiano sarebbe stato messo al corrente della morte di Moro diverse ore prima dell'annuncio dato dalle BR. Questo particolare, secondo il conduttore di Report Sigfrido Rannucci, e cito ancora, testimonierebbe l'esistenza di una posta in gioco molto più alta, molto superiore rispetto alle dinamiche dei brigatisti. Secondo il servizio di Report, infatti, nel caso Moro non sarebbero coinvolte solo le Brigate Rosse, ma avrebbero giocato un ruolo chiave anche i servizi segreti italiani e la criminalità organizzata. Questa tesi, va detto, non è un'esclusiva di Report, ma negli anni è stata rimaneggiata e arricchita da tutta una serie di altre ipotesi, che vedono coinvolti i soggetti più disparati, che vanno dalla loggia massonica P2 fino al KGB e addirittura al Mossad. Ma per capire cosa non è successo in quei 55 giorni, vale la pena partire da ciò che sappiamo, ovvero la verità processuale. La mattina del 16 marzo 78, quella del rapimento, Aldo Moro si stava recando in Parlamento per votare la fiducia al sesto governo Andreotti, quando l'auto su cui viaggiava fu intercettata e fermata da un nucleo armato delle Brigate Rosse. Quattro brigatisti, Morucci, Fiore, Gallinari e Bonisoli, aprirono il fuoco contro la scorta, gli altri si occuparono del sequestro vero e proprio. Il rapimento fu rivendicato da Valerio Morucci alle ore 10 e 10 dello stesso giorno, attraverso una telefonata all'agenzia ANSA in cui annunciò «Questa mattina abbiamo sequestrato il presidente della democrazia cristiana Moro ed eliminato la sua guardia del corpo, teste di cuoio di Cossiga. Seguirà comunicato, firmato Brigate Rosse». Durante i 55 giorni di prigionia, le BR chiesero in vano uno scambio di prigionieri con lo Stato italiano, che si rifiutò di negoziare in osseguio alla cosiddetta «linea dell'intransigenza» sposata dall'intero arco parlamentare, eccetto il Partito Socialista. L'uccisione di Moro e la posizione del corpo fu comunicata ancora una volta da Morucci, questa volta con una telefonata a Franco Tritto, amico e collaboratore di Aldo Moro. «È il professor Franco Tritto? E chi parla? È il dottor Nicolai? Sì, Nicolai. È l'esolo, il professor Franco Tritto? Sì, ma io voglio sapere chi parla. Brigate Rosse». Successivamente al rinvenimento del corpo di Moro in via Caetani, si ebbero i primi arresti, quelli di alcuni brigatisti, e il 24 gennaio 1983 la Corte d'Assese di Roma inflisse 32 ergastoli e 316 anni di carcere a ben 63 imputati. Negli anni successivi furono celebrati tre nuovi processi, in cui vennero condannati altri brigatisti per il loro coinvolgimento in diverse azioni eversive e in alcuni risvolti del caso Moro. Per fare chiarezza su alcuni degli aspetti che più vengono manipolati dalla cosiddetta dietrologia, cioè quella serie di teorie e ipotesi che cercano di rielaborare la verità processuale, tentando di far sorgere dubbi nell'opinione pubblica e portando dettagli che spesso non hanno alcuna logica nell'intera vicenda, abbiamo fatto alcune domande a Vladimir Osatta, storico specializzato nella storia della Repubblica Italiana e degli anni di piombo, e è stato documentarista del Senato ed è autore, tra gli altri, del libro intitolato Il caso Moro e i suoi falsi misteri. Con lui abbiamo cercato di fare chiarezza su alcune delle varie ipotesi che circolano sul caso Moro, partendo dal servizio di Report, il cui tono, tra le altre cose, ha cercato di trasmettere ai telespettatori l'idea che esistano ancora molti misteri sul caso e, soprattutto, dettagli inediti che testimonierebbero una verità alternativa che prevede, ad esempio, il coinvolgimento di altri attori nel sequestro e nell'omicidio di Aldo Moro. Il problema di cosa stessero facendo i servizi che, in qualche maniera, rappresentavano gli interessi di Yalta, me lo ponevo. Si è consumato, dice l'ex ministro Signorile, un patto oscuro, probabilmente, addirittura indicibile per l'ex ministro Vincenzo Scotti e testimonierebbe l'esistenza di una posta in gioco molto più alta, molto superiore rispetto alle dinamiche dei brigatisti. Prima di tutto abbiamo cercato allora, con Vladimiro Satta, di capire da dove nascono queste teorie del complotto. Nel caso della vicenda Moro, le teorie complottistiche nascono più ancora dal rifiuto della ricostruzione giudiziaria e storica, secondo cui appunto le brigate rosse avrebbero fatto da sole, che non dalla mancanza di qualche tessera del mosaico. Certo, quando si è in presenza di una lacuna, non è corretto riempirla con la fantasia, specialmente se un tentativo del genere contrasta con l'evidenza che invece sono disponibili. Ben inteso, la storia si può benissimo perfezionare, rivoluzionare, si riscrive, ma a condizione di avere solidi elementi per farlo, non meri sospetti o pregiudizi. E allora, addentrandoci nel vivo della questione, abbiamo cercato anche di capire insieme a Vladimiro Satta perché non è possibile affermare che le Brigate Rosse abbiano agito per conto degli Stati Uniti. Le Brigate Rosse erano formate da comunisti rivoluzionari, quindi anticapitalisti, antiamericani, antinato. Gli esponenti americani e NATO, ad esempio i generali Docher che venne sequestrato e Hunt che venne ucciso, furono semmai tra i loro bersagli, anche se nell'insieme la lotta armada colpiva in grande maggioranza personaggi italiani. Mancano innanzitutto prove di coinvolgimento di servizi americani o anche di servizi di altri paesi, nonostante decenni di insistite ricerche in questo senso. Anche da un punto di vista logico-istorico del resto, l'ipotesi è addirittura inverosimile. Ora, perché mai le Brigate Rosse avrebbero dovuto mettere da parte la loro stilità nei confronti dell'Occidente, della NATO e degli Stati Uniti, proprio e soltanto in occasione di l'azione più importante della loro storia, salvo tornare poi sulla loro strada e riprendere ad essere antiamericane e antinato subito dopo? Non ha senso, dal punto di vista degli USA e della NATO, specularmente, perché mai esse si sarebbero alleate con le Brigate Rosse e contro Moro? Le Brigate Rosse erano contro gli Stati Uniti e contro la NATO, avrebbero dovuto distruggere il capitalismo e il sistema occidentale, mentre Moro, al contrario, non mise mai in forse l'alleanza dell'Italia con gli Stati Uniti, l'alleanza atlantica, l'appartenenza del nostro paese al sistema occidentale, il modello di società capitalistica, le sue istituzioni liberal-democratiche. Quindi, coloro che parlando del sequestro e dell'omicidio di Moro evocano Gialta, lo fanno a sproposito, non si rendono conto che, ove mai il 16 marzo 1978, qualcuno fosse sceso in via Fani in nome di Gialta e della divisione del mondo in blocchi, questo qualcuno avrebbe combattuto in difesa di Aldo Moro e contro le Brigate Rosse, non il contrario. In generale, poi, si considera che per i terroristi di ogni paese, ogni alleanza con esterni, la stessa nazione o anche altri, è comunque distiosa, perché potrebbe portare alla loro individuazione da parte di altre polizie, altri servizi segreti, sulle tracce del nuovo alleato. Ma non solo la NATO o gli Stati Uniti. esistono altre ipotesi secondo cui le Brigate Rosse sarebbero state guidate da altri attori o comunque che ci fosse qualche altra entità coinvolta. Ecco, in realtà, se si analizzano i fatti storici e le verità processuali, la veridicità di queste teorie viene frantumata. È irrealistico, per esempio, il coinvolgimento dell'Andrangheta. Le Brigate Rosse ebbero origine al nord, scesero poi a Roma e a Napoli, ma nel resto del sud furono pressoché assenti. L'Andrangheta a sua volta all'epoca era un fenomeno calabrese e regionale, l'espansione poi che tutti conosciamo si è avuta in tempi più tardi. Le Brigate Rosse avrebbero rischiato molto alleandosi con un soggetto come l'Andrangheta. Quali fiducia potevano avere nell'Andrangheta e in un criminale comune, nell'Andrangheta come De Buono, che questo non aprisse il fuoco contro di loro invece di aprirlo contro gli agenti della scorta, tanto per dene uno. Le Brigate Rosse avevano bisogno di chiamare uno sparatore dell'Andrangheta per eliminare un ostaggio? Ma ci rendiamo conto? Ecco. Quindi, quale fiducia potevano avere le Brigate Rosse nell'Andrangheta? Anzi, avrebbero corso il pericolo di essere raggiunte casualmente da quegli inquirenti che invece di seguire le Brigate Rosse seguirono l'Andrangheta stessa se avessero ottenuto rapporti con esse. Questo è un problema che si pone sempre alle organizzazioni terroristiche, che se fanno delle alleanze con qualcuno, specialmente qualcuno che non ha il loro obiettivo ma ne ha tutt'altro, notoriamente, devono stare particolarmente attenti. E infine altre illazioni di coinvolgimento che riguardano tra gli altri il KGB o addirittura l'israeliano Mossad. E' quindi possibile dare per certa la presenza di qualche attore diverso dalle Brigate Rosse? Possiamo dare praticamente per esclusa perché appunto non abbiamo avuto mai prova di questo. Per quanto riguarda le potenze possiamo anche aggiungere che sono state effettuate ricerche anche negli archivi di altri paesi ad esempio archivi di paesi dell'Europa dell'Est i cui regimi sono caduti e non si è trovata assolutamente traccia di tutto questo. Le Brigate Rosse tra l'altro non simpatizzavano per il comunismo di tipo sovietico, erano più per un comunismo di tipo terzo mondista. E sappiamo quindi anche gli Stati Uniti non hanno trovato nulla a carico dei paesi dell'Est e i paesi dell'Est non hanno trovato nulla a carico degli Stati Uniti. E questo credo che sia estremamente significativo. Per quanto riguarda poi il Mossad che interesse poteva avere il Mossad ad allearsi di nuovo con le Brigate Rosse. Il Mossad solamente aveva un interesse che si dimostrò nel 1972 quando cercò di avvicinare un tale di nome Pisetta. Si può pensare che l'interesse del Mossad fosse quello di arrivare a mettere le mani sui suoi nemici giurati, cioè gli arabi perché i brigadisti rossi avevano delle simpatie filopalestinesi. Queste sono solo alcune delle dietrologie che sono nate in questi quasi 46 anni dal caso Moro ma ce ne sono davvero molte altre e avremmo bisogno di molto più di una sola puntata di Veramente per analizzarle tutte insieme a voi. L'ultima teoria con cui vogliamo lasciarvi è quella che Signorile ha portato nella puntata di Report del 7 gennaio secondo cui i vertici dello Stato italiano avrebbero saputo della morte di Moro già ore prima della rivelazione ufficiale della notizia e lui lo saprebbe perché era stato invitato dall'allora ministro dell'interno Cossiga a prendere un caffè. Come ha scritto Paolo Morando sul quotidiano domani questa dichiarazione di Signorile è ballerina per così dire perché nelle testimonianze che ha rilasciato negli anni sui fatti l'orario del suo presunto incontro con Cossiga e quello in cui i vertici dello Stato avrebbero ricevuto la notizia in anticipo cambiano e in alcuni casi sono inconciliabili con i fatti accertati. Ma non solo davanti alla Corte d'Assise di Roma nel 1982 in un lungo interrogatorio come testimone Signorile non sfiorò minimamente la questione di quello strano orario e anche nel 1999 davanti alla Commissione Stragi quella presieduta da Pellegrino nuovamente nessun accenno eppure non si trattava di una questione banale. Solo nel 2010 Signorile ne riparlò in un'intervista a Lanza e poi su questa questione c'è la presunta testimonianza di un artificiere vita Antonio Raso che intervenne quella mattina la mattina in cui fu ritrovato il corpo di Aldo Moro in via Caetani il quale ha sostenuto di essere arrivato lì tra le 10.30 e le 10.45 e di aver parlato con Cossiga che era già presente in strada. Non c'è però alcuna traccia delle sue relazioni di servizio ma soprattutto se Signorile afferma di essere stato con Cossiga tra le 10.30 e le 11 orario in cui sarebbe arrivato l'annuncio della morte di Moro come faceva Cossiga ad essere anche in via Caetani all'orario dichiarato dall'artificiere? Insomma una serie di dettagli che non tornano e che non ci permettono di prendere questa questione come una verità alternativa sul caso Moro o un elemento capace di aprire dubbi rispetto alle verità fattuali che tutti e tutte conosciamo fino ad ora contrariamente a quanto ha fatto Report. Il problema delle dietrologie di queste teorie alternative appunto è che spesso possono avere senso se vengono guardate in relazione solo al fatto del sequestro o della morte ma perdono completamente forza nel momento in cui vengono contestualizzate nella storia di quel periodo nei fatti che hanno preceduto e seguito il caso Moro ma soprattutto crollano nel momento in cui ci chiediamo ma perché sarebbe dovuto andare così? E allora arrivati a questo punto vale la pena domandarsi cosa alimenti e abbia alimentato per decenni le più svariate ipotesi di complotto sul rapimento di Aldo Moro come ha spiegato su X il giornalista di fanpage Valerio Renzi è molto probabile che la vasta produzione cospirazionista sul sequestro abbia a che fare con una sottovalutazione generale del ruolo e dell'organizzazione capillare della lotta armata di quegli anni in questo senso chi tira in ballo agenti esterni in grado di manovrare le BR lo fa anche e soprattutto per non riconoscere la matrice ideologica di quei fatti esiste poi una componente di fascinazione per i misteri una necessità di riempire di significato i vuoti lasciati dalla storia che nel caso del rapimento Moro sono comunque tanti a partire dalla presunta seduta spiritica con cui l'allora professore bolognese Romano Prodi spiegò di aver ottenuto un riferimento a Gradoli che si scoprirà poi essere la via in cui c'era un covo delle Brigate Rosse interrogando gli spiriti di Don Luigi Sturzo e Giorgio Lapira qualunque sia l'aspetto fondante di questo tipo di complottismo è importante segnalare la debolezza dell'apparato che lo regge fatto spesso di coincidenze testimonianze di seconda mano e congetture spesso prive di fondamento un vero e proprio format dei misteri italiani come lo ha definito ancora Valerio Renzi molto difficile da disinnescare l'unico antidoto a questa narrazione è la ricerca storica e in questo senso ringraziamo Vladimiro Satta che ci ha aiutati a fare chiarezza su quello che è a tutti gli effetti il più appassionante e più divisivo fatto di cronaca nella storia italiana Facta News è un progetto di debunking attivo dal 2020 e si occupa di verificare le notizie Sceglia chi non credere è il nostro slogan e sintetizza il nostro obiettivo segnalare ai lettori quali notizie sono vere e quali no Seguiteci sul nostro sito www.facta.news e sui nostri canali social Twitter Facebook Instagram e TikTok Ci trovate anche su YouTube e abbiamo un numero Whatsapp interamente dedicato alla corretta informazione Per contattarci basta scrivere ciao al 342 1829 843 Per rimanere aggiornati sugli articoli che pubblichiamo e sulle principali tendenze della disinformazione potete seguire il nostro canale Telegram e il nostro canale Whatsapp Il podcast di Facta News è scritto da Simone Fontana e Anna Tognolo è prodotto da Jessica Mariana Masucci Io sono Anna Tognolo e questo era veramente il podcast di Facta News di Facta News